Questa la tengo eh, perchè magari devo tipo modificarmi il chiclash me lo tengo, perchè magari devo cambiare il gusto, sai? Ah ma non abbiamo ancora detto di cosa stiamo parlando, non ci siamo neanche presentati. Salve a tutti, io sono Stix, io sono Art, e insieme siamo dei gran pezzi di Toon. Allora, premessa fondamentale, pare di facciali a parte. Sì, ma anche non mi stai facendo una bella faccia. Comunque, è un po' che non facciamo video. No, per niente. Cioè, per niente nel senso che è da un po' che non... Ah ok, e quale modo migliore di ricominciare? Con un video che non c'entra in assolutamente nulla! Vabbè. Sul gameplay, assolutamente. Però è una sfida per le nostre papille gustative. Comunque, avete già visto di cosa stiamo parlando. Ed è una... Ti faccio rivedere nel caso. Non so, io ho paura. Eeeeee... Boh, io non so neanche come cazzo funziona. Allora, sì sì, leggiamo direttamente. Facciamo l'unboxing dello schifo. Non me ne voglio, ma chi ne ha inventate queste cose per te. Quante cazzo ce ne sono? Oddio! Io non le mangio tutte. Guarda, ce ne sono 75! Vabbè, non può. Perché di quelle gialli ce n'è un bozzo di più delle altre? Sono stronti. Anche delle verdi, non ce n'è un cazzo, vedete. Come funziona questa roba? Quindi ho capito che ci beccheremo un bozzo di merda. Come funziona questa roba? Eeeeee... Dai, va bene. Allora, praticamente, ce l'hai la moneta. Ma ce l'ho io, faccio. Ma no, fa il culo. Ma capito. Due euro perché siamo ricchi. Esistono anche le forbici, ho becchiato. Ma no, io voglio tentare la sfida. No, niente forbici, va bene. Dai, tanto grazie. Eh no? Ok, l'ho aperto in qualche parte. Ce l'ha fatta perché avevo una bestia. Allora, iniziamo. Adesso, è uscito alito fetido o limone. Che non c'è tra noi, quindi prendiamo il più vicino che è l'arancione. Cicci, alla tua. E' arrivata. E non è buono. Eh, il gusto dell'arancione mi piace. Beh, è fanculo. Non è buono. Giacchia è arrivata, non è buono. Ma capola via sta... Ma come cazzo vuoi tenere le bocche? L'ho ingoiato eh È meglio che mi tengo questo ancora per un po' 5 punti Ma ci sono i punti anche Allora o ascella puzzolente o fragola Ma tu stai lontano ci sono qui Non riesco a respirare Cazzo devo dirti io Eh c'ho quell'azzurro No tocca a me basta E non c'era da grattare due No è uno a testa ma vedi che non capisco Ma scusa è uno a testa appunto Eh tocca a me a grattare ho grattato c'è la caramela quindi la maniamo Eh vabbè tutto l'altro non c'era quindi No è andata bene Guarda c'è il belatele eh La scilla bella rosa Beh hai già messo in bocca Ah ok Aspetta faccio ancora un'altra idea Io la sputo eh Io la sputo me ne frega un cazzo non lo faccio più Dai Sì alla tua Ah 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 C'è la puttina, c'è la cipolla Ma che no Puoi scatica a portare C'è la cipolla veramente Oh porca puttina Gli ha anche poi lo cibo per cario Cazzo Cazzo che tu c'hai qua in bocca Ma non arriva Ma arriva ancora il tuo mangiamento dei cari Che visto è sta qua Dalla eva Ok quindi io ti... Questo è il punto vivo C'è finita? 5 pari Ti darò la tua grattata e devo rigattare Guarda io ti darò volentieri la vittoria Se ci va di culo forse ne abbiamo tutti e due alla fragola Invece Invece mi sembra di ottenere il merda Ciii Me la godo fino alla fine Anzi Io questo non l'ho trovato E' inutile grattare adesso Si infatti fa un culo Il prossimo giro va solo per capire quale scegliere tra Cazzo 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 Mi sto mangiando anche della limatura tra l'altro A notare Perché già vuole mai... Vabbè Non sapore in più Un'amica 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 standard Un'amica Non paturata E' buona Mangia questa un'altra All'inizio sembrava un busto di menta Che è arrivato con la frescura Poi capisci che è un effetto segatura Ma cazzo non ce la chiude Si, gratta l'ultima Deeeeeeeh Io vado su un'arancia Una, due, tre Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo L'ultima Io beckerò lo schifo Oh si, allena i quattro Puoi parlarti di culo dai Facciamo ancora un giro insieme Ma buppo Cosa Frischi No, quella è una ficata Mi è arrivato il tuo di prima Porca puttana Questa è peggiore Madonna Che peggi Sì Vero uomo eh adesso Una cosa che non mangia bene neanche il tuo cane L'hai mangiata tu Fico No basta Vero che è pesato questo Prego Pensa che me lo sono assorbito prima io Ma tu ce l'hai in bocca Ce l'hai in bocca adesso Non più l'ho finito Quindi di conseguenza ho finito Sì Io non ho spugnato niente Io sono un vero uomo Ho finito Sì Ho perso Ho perso Ho perso Ma me lo dà Ma è l'unico gioco che mi piace perdere Cioè Sì Effettivamente saremmo meglio C'è soddisfatto di aver vinto No Beh Non so neanche come concludere sto video Scusiamo con il cameraman Che adesso viene qua Oh si eh Fa un giro insieme a noi Dai 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 All'olfatto 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 è Tu buttati Vinci 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 E condividete su Facebook, Twitter, tutto quello che vi pare e piace. Noi ci vediamo al prossimo video notte!